Andare in giro in motorino in due da adesso è possibile, purché chi guida abbia 16 anni. Ad affermarlo è il Ministero dell'Interno con una circolare del 13 agosto che entrerà in vigore a partire da martedì 18. Il conducente a 16enne, con il permesso di guida, può trasportare regolarmente un altro passeggero su qualsiasi veicolo per il quale è abilitato alla conduzione, senza incorrere in nessun tipo di sanzione. Viene abrogato dunque il divieto per i minorenni patentati che conducono veicoli appartenenti alle categorie AM, A1 e B1, ovvero i cosiddetti cinquantine a due e tre ruote, quadricicli leggeri, motocicli 125, tricicli e quadricicli di potenza inferiore e 15 kWh, di trasportare un passeggero. Potevano farlo prima solo i maggiorenni. Chiaramente il posto per il passeggero deve essere espressamente indicato nel certificato di circolazione e il passeggero deve avere almeno 5 anni d'età. Il divieto di circolazione e la conseguente multa restano in vigore solo per i 14enni che vanno in coppia su un motorino o in caso di veicoli non idoni al trasporto di due persone. Introdotte ancora altre modifiche che riguardano i requisiti per il rilascio delle patenti di guida. Sono infatti meno restrittive quelle visive richieste alla persona che rimangono però di 160 gradi complessivi, ma che comunque devono avere un'estensione verso l'alto di almeno 30 gradi e non più di 25 come accadeva prima. Cambiano pure i requisiti richiesti agli esaminatori che devono avere patente B per il rilascio delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B. Scompare infine il limite di 750 kg per la massa del rimorchio per i possessori di patente speciale per disabili che potranno adesso trainare rimorchi di qualsiasi peso. La circolare emesse il 13 agosto scorso attua alla legge comunitaria 115 del 2015 che introduce in Italia alcune modifiche al codice della strada indicate dall'Unione Europea.